Ecco un posto pazzesco che devi assolutamente visitare, una splendida villa neobarocca immersa in un parco secolare che ospita una prestigiosa collezione di opere d'arte. Siamo alla Fondazione Magnani Rocca, a pochi chilometri da Parma. Voluta dal critico d'arte musicologo Luigi Magnani, la Fondazione ospita opere di Dürer, Goia, Tiziano, Canova, Monet, Morandi e molti altri. Dopo la visita della collezione è d'obbligo una passeggiata nel Giardinale Italiana e nel Parco Romantico in stile inglese, dove puoi incontrare i pavoni, simboli della fauna del parco. Salva i video e seguici per non perdere i nuovi itinerari artistici.